Un PDL sempre più nel caos, quello che si affaccia alle prossime elezioni. Berlusconi prima sfiducia a Monti, poi lo vuole come federatore dei moderati con il PDL, poi tenta di ricucire con la Lega, che però non vuole Monti. In gioco c'è la presidenza della regione Lombardia, sulla quale Maroni si gioca tutta la sua credibilità e vorrebbe che l'ex alleato evitasse la candidatura di un competitor forte come Albertini. Ma per il momento Berlusconi dovrà restare in stand-by, anche perché il carroccio prende tempo e non intende pronunciarsi su una futura alleanza con il PDL, anche su scala nazionale. Cosa fattibile sono nel caso in cui Berlusconi facesse un passo indietro e lanciasse la candidatura di Alfano a Premier anziché quella di Monti. Ma mentre il Cavandiere tenta di ricucire un'alleanza che fino a un anno fa era più che mai scontata, in quello che resta del PDL si consuma l'ennesimo strappo. A lasciare questa volta il partito è Ignazio Larussa, ex AN, che dà vita a un nuovo soggetto politico, centodresta nazionale e presenterà all'elezione del 2013 una lista ad hoc che ospiterà tutti i parlamentari ex AN che fanno capo alla corrente Italia protagonista. Una scissione che segna l'inizio vero e proprio dello spacchettamento del PDL inviso dal Fano voluto invece dal Cavariere per avere le mani più libere per nuove liste elettorali e dà vita a sua volta a una riedizione di Forza Italia. Ma segna soprattutto la fine del sodalizio politico con Maurizio Gasbarri. Nel movimento di Larussa potrebbero arrivare anche Giorgia Meloni e Guido Crosetto, reduci dal successo della manifestazione domenica scorsa. Tra i tre sono in corso trattative e potrebbero essere in molti degli ex AN a seguirli. Dici addio al PDL e a Berlusconi, anche Beppe Pisano, da tampo critico sulle posizioni del PDL, annuncia l'uscita dal partito per sostenere in un'eventuale lista Monti. Ormai spiega Pisano, Berlusconi è in concorrenza diretta con Grillo. Resta solo da vedere se il primo non stia lavorando per il secondo, ha spiegato il senatore al quotidiano La Repubblica. Pisano si augura nascita di un partito liberal democratico, a vocazione maggioritaria, naturalmente alternativa alla destra e alla sinistra, guidato però dal premier Mario Monti.